dovrebbe essere quasi orizzontale ma per sicurezza abbiamo portato delle cose molto molto suggestivo beh la riprendo perché sono in mezzo alle radici di un albero bello ecco è stato facile No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vai un po' avanti che vediamo Ci sono anche un sacco di sanguisughe perciò mi sa che dovremmo accontentarci di questa parte di grotta Peccato Dai Vani che prendi freddo Ma che bello Ah qua mi si vede un tubo in alto C'è quello della granacca che scende Dopo c'è il russello Vedi Hai visto Lì bisogna togliarsi la roba per passare Ma no che scende Abbiamo Vanes che vuole provare a passare una strettoia Dove sicuramente si inviterà Io sono qui che preparerò la relazione Dopo da dare all'Inps per la reversibilità della Nadia Quando non lo vedranno tornare potrò testimoniare che è scomparso Oltre alla strettoia Non abbiamo più autotrazza Ehm Sei riuscito? Adio Cosa? No niente Non sto tirando fino Sono in uscita Perché? Perché mi arriva addosso qualche cosa Su consiglio di Vanes Lo voglio specificare su consiglio di Vanes Ho fatto cadere un ramo vecchio Era pericoloso Era pericoloso Era pericoloso Siamo sull'orlo Del precipicio A fianco della cascata E' bellissimo Vai Vanes vieni Vanes Portami il sacco E' bassa Oltre la cascata c'è quell'altra grossa Per andare oltre ci vuole la muta Se no ci bagniamo troppo E' troppo pericoloso Ritorneremo la prossima volta Veneremo la prossima Pericoloso Pozzi Pericoloso Il Lo Pericoloso Il Grazie a tutti. Siamo arrivati al Ranch Abdul dove ci fermeremo a dormire per la terza volta. Ecco i nostri amici cavalli, asini, guarda che ci guardano tutti, ma ce n'è un casino stavolta. Non ce ne erano così tanti l'altra volta. Guarda che belli. Se porto mia figlia qua, va giù di testa. Grazie. 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 Grazie.